Cioè ma lascia stare, ma chi sono, ma chi sono, guarda qui che frittata, voilà, padella iper pulita, cioè ma vuoi mettere una fetta di frittata, aglio e zucchine, cioè guarda qui, ma per favore Masterchef, Masterchef, ma chi sono, Morfeo, chi sono, chi sono? Morfeo, fa delusso oggi, pista Etna. Pettino, privato, corrente, lavandino, vista Etna, c'è, corrente che ricarichiamo la batteria a manetta. Grazie. Grazie. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, allora oggi siamo ai giardini di Naxos sotto praticamente Taormina, sarà 3-4 chilometri Taormina e adesso ci andiamo a fare un giretto qui in zona, vediamo cosa c'è. ci siamo fermati in un'area sosta camper attrezzata con tutto, acqua, olio, no scherzo, no però dovevo ricaricare le batterie al massimo perché erano 3-4 giorni già che non prendevo sole e quindi era più la corrente che usavo di quella che riuscivo a caricare e dai 15 euro tutto compreso mi sembra onesto e ogni tanto ci vuole, ci vuole, finché non metto un impianto più grosso, vedremo. Pa! Pa! Porca puttana che sta cosa della mano, blog, me l'ha attaccata già ma io non la voglio fare mi viene in automatico quando devo chiudere un video di fare così, vabbe. Scusa già ma. Grazie a tutti 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 Ah ma non vado dentro i giardini qui pensavo che c'era l'ingresso anche qui ma dice che sono tutti chiusi non li aprono non sono aperti uh sti giardini in acos volevo vedere i giardini in acos oh comunque devo dire che qui in acos i posti per le aree attrezzate per i camper non mancano eh perché ce n'è una lì una di fianco un'altra dove sono io che sarà a mezzo chilometro da qui e poi mi sembra di averne visto un'altra ieri sera da un'altra parte dalla parte di sotto diciamo quindi dai posti non manca poi adesso vedo perché qui è bellino il posto e esattamente di fianco dove sono io adesso parcheggiato nell'area Sostacampra c'è un parcheggio enorme che d'estate è a pagamento ma adesso è vuoto e non c'è nessuno quindi mi sa che se rimango qui due tre giorni e poi domani come faccio sempre esco dal di lì perché tanto ormai la ricarica della batteria l'ho fatta e magari sto due giorni qua non lo so vediamo vediamo allora il museo parco archeologico è aperto tutti i giorni dalle nove di mattina sono le undici andiamo a vedere ci sarà un ingresso un biglietto da pagare sicuro vediamo vediamo si troviamo il museo parco il museo parco allora dove cazzo è sempre il dito lì ora in fondo la di dietro ci dovrebbe essere taormina avete letto tutto mi sposto è allora 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 sono sono quasi sicuro che d'estate qui fanno a botte per mettersi sui lastri sui piangeli ma per me vengono la mattina le 5 metto l'asciugamano allora 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 io io ieri sera sono arrivato allora sono arrivato di là non è arrivato qua in fondo e si tornava indietro su quello ecco la strada lì mi sembra che è chiusa è dovuto rifare tutto il giro perché ovviamente non mi ero preso sul telefono né niente non avevo guardato le vie non c'era nessuno in giro non sapevo quindi ho dovuto rifare tutto il giro a tornare indietro perché io pensavo che partivo ecco guarda metto qui negli occhiali io sono partito di qui ho detto vado giù di qua volto a destra volto a destra volto a destra volto a destra ritorno qui invece volto a destra volto a destra quando sono arrivato qui bisognava ritornare indietro qua era chiuso non c'era la strada invece poi stamattina ho guardato la cartina e qua 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 ci sono un sacco di stradine che tornano su però che era tardi non sapevo quanto tempo era passato perché avevo neanche un orologio avevo pure che mi chiedeva il campeggio quindi morfeo si è fatto una faticata ogni tanto l'ho preso in braccio ma è un diesel va sempre infatti stanotte ha dormito non l'ho sentito per niente sei mossi ok stiamo ritornando verso il gigione abbiamo fatto il giro giù del porto e tutto tutto passiamo di fianco ai giardini di Nacos sarebbero Nacos ma mi piace chiamarli Nacos e niente per entrare e vedere un giardino con delle buche con le pietre vecchie diciamo poi ho appassionato di ecologia magari mi piace mi interessava più di tanto anche perché per entrare 4 euro quindi sto bene anche a vederlo da fuori così in questa squadra e niente torniamo al gigione guarda il tempo non si sa cosa fa un po' di rannura tira il vento ieri non tirava il vento ieri si resta benissimo era un caldo vabbè è un'isola è normale che poi sulle coste ci sia il vento allora siamo quasi arrivati al gigione al campeggio un'area sosta attrezzata non è un campeggio sono delle piazzole al chiuso con tutti i servizi che però per passarci un giorno per rifornimento acqua e scariche tutto ricaricare batteria 15 euro vanissimo sono anche super onesti però qui c'è questo bel parcheggio tutto vuoto che è di fianco quindi visto l'allertamento che ho messo non lo voglio spostare in su e in teoria non mi piacerebbe neanche stare sulla costa con quello che ha messo vediamo un po' i prossimi giorni come va se no io mi metto qua nel parcheggio qui poi se per caso ho bisogno di servizi cosa c'ho lì di fianco il top e chi ci ammazza bro? questa cosa l'avevo vista anche in Canaria la mattina sulle otto e mezza passa il signore fornaio suona con la macchina e ti lascia le brioche il pane allora la parte che avete visto adesso è la parte sud dei giardini di Nacios che è quella dove c'è il porto c'è tutto il giro sul porto quello che avete visto c'è le statue lì quelle robe lì dove c'è l'ingresso del museo archeologico poi quando me ne sono andato giorni dopo però ve lo carico qui perché fa sempre parte dei giardini di Nacios dall'altra parte verso Taormina c'è tutto il lungomare molto più bello però non c'è posto per fermarsi solo che era lontano da dove ero io perché saranno almeno 3-4 km secondo me forse 2 vabbè comunque adesso quello che vedete quel poco che vedete adesso ho trovato un buco per fermarmi ho filmato un po' il mare un po' agitato ma per me da surfare era una figata so che è freddo lontano vedete lontano vedete 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.